E allora, Misser, tre punti importanti qui a Chiaveri, quella che si può definire la partita perfetta, è d'accordo? No, no, non sono d'accordo. Credo una partita solida, matura, questo sì, una squadra molto concreta, quello che chiedevo, i ragazzi hanno dimostrato. E allora, partita perfetta, sì, se poi vogliamo chiamare partita perfetta perché si vince, chiamiamola così, però insomma io devo fare una valutazione più generale. Bartolomeo nel ruolo di Mezzala sembra avere più libertà e essere più presente nell'azione, è d'accordo su questa analisi? Sì, sì, sono d'accordo, oggi ha fatto una buona prestazione, era più libero, forse si è ritrovato nella sua posizione naturale e sono contento, da lui ci aspettiamo molto. Quanto è importante dal punto di vista del morale una rete come quella realizzata da Castagnetti e che cosa ha pensato lei quando Michele ha calciato? Non voglio essere fuorgaro, ma sicuramente questo è un gran colpo, è un jolly che ci ha permesso di andare su 2-0 e gestire la partita in maniera diversa. Cremonese è ancora determinante nella ripresa dopo un primo tempo sotto controllo, significa che è una squadra che sta andando verso la maturità? Oggi è un bel segnale, la maturità vedremo venerdì perché in questo turno settimanale abbiamo dimostrato sempre in maturità o non lo so, forse venerdì vedremo di che parte siamo. E quanto pensano queste due vittorie consecutive sulla squadra e sulla classifica? Ma è chiaro che sono vittorie importanti e pensare alla prossima, ma questo deve dare fiducia alla squadra, entusiasmo e allo stesso tempo anche consapevolezza.